L'analisi di quelle spietate, fatte con numeri alla mano e con poca attenzione a filtrare i dati attraverso le condizioni climatiche o i periodi storici. Questa è la premessa necessaria per snocciolare i numeri alla mano e il rapporto tra il pubblico e la calcio avellino a SSD. Un connubio d'amore va senza dire che, come tutte le storie che si rispettino, vivono degli alti e dei bassi. Questo è sicuramente un periodo di calo, ma cominciamo dall'inizio. L'estate difficile del calcio ad Avellino ha partorito, dopo varie peripezie, circa 2.200 abbonati. A questi vanno aggiunti di volta in volta paganti ed accrediti. L'esordio stagionale con il Nola in Coppa Italia ha fatto registrare 2.635 spettatori. Eravamo al 19 agosto. Boom, per la partita di campionato, l'esordio con l'Alba Longa, al partenio arrivarono 3.143 persone. Bene, ma non benissimo, direbbero i Millenian. Nel big match contro il Lanusei, gli spalti erano decisamente più affollati. Circa 3.700 gli spettatori. Per la partita accesa dalle dichiarazioni di Archimede Graziani e dal botta e risposta con il collega Sardo. Deciso calo nella sfida contro il Sassari Latte Dolce del 28 ottobre, l'Avellino, reduce da due sconfitte, accoglie con 3.100 spettatori i sardi. Poco meno di un mese dopo, contro la Vizzartena, si migliora il dato, con circa 100 spettatori in più. Poca cosa. La partita di cartello contro il Trastevere al momento ha fatto registrare il top, con 3.882 tifosi a guardare il match dagli spalti. Il freddo il 2 dicembre già c'era. Altra partita da considerare è la sfida tra nobili decadute Avellino e Latina, un'eccezione in cui 3.600 persone hanno preso parte in un nostalgico match ripensando ai vecchi fasti. Nel mezzo guai e freddo. Il gelo delle ultime settimane ha portato numeri impietosi. Per la sfida contro i Ladispoli le presenze allo stadio per la prima volta sono scese poco più di 2.500 le persone che hanno assistito al match, pochino considerando che questa piazza in questo momento ha bisogno della spinta del pubblico. È pur vero che avevamo parlato di scarni numeri, ma non si può non tener conto della neve e del gelo, soprattutto per chi viene dalla provincia. All'orizzonte c'è un girone di ritorno lungo ed impegnativo, tanto quanto l'inverno, nel quale il calore del pubblico deve e può fare la differenza. Speriamo davvero che questa banale considerazione possa trovare riscontro nella realtà.